E ora la pagina di sport con il calcio, parliamo del Pescara e del Toto allenatore, sono ore importanti queste per cercare di capire chi sarà l'allenatore biancazzurro nei giorni, nelle ore scorse, insomma i nomi di cui si era parlato erano proprio Zeman e Colombo, ma sentiamo proprio le ultime novità da Massimo Profeta che è collegato in diretta con noi, Massimo buonasera, Zeman e Colombo sono state sciolte le riserve, cosa puoi dirci a tal proposito? Sì, intanto ti saluto Anna, un saluto a te e tutti gli amici di Visione dell'Ascolto, insomma la gestazione è stata piuttosto complessa, diciamo subito che Colombo è ad un passo dalla firma, ci sono tutti gli accordi mentre Zeman è tagliato fuori, da quello che ci risulta non ha affatto influito l'aspetto economico tra le parti, ovvero tra Delicari e Zeman ci sono stati solo contatti telefonici, neanche un incontro, il neo DS biancazzurro ha sondato la disponibilità del boemo che è legato da un rapporto di consolidata amicizia e stima a Pavone, Peppino Pavone tra l'altro ex giocatore e DS del Pescara. Zeman ha fatto evidentemente delle valutazioni anche alla luce del rapporto burrascoso nella precedente esperienza di quattro anni fa con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, non è convinto di tornare a Pescara, probabilmente lo Zeman Ter sarebbe stato rischioso per tanti motivi. Del resto i contatti telefonici si sono interrotti, Zeman non ha più cercato Delicari ed è successo anche l'esatto contrario. Insomma il Pescara ha virato in modo deciso, come dicevamo in apertura, su Alberto Colombo, 48 anni compiuti lo scorso febbraio. Quest'anno Colombo ha allenato il Monopoli, rivelazione al pari del Foggia del girone C del campionato di Serie C, eliminato il Monopoli dal Catanzaro ai quarti playoff. È stato un risultato storico per il club pugliese, tra l'altro c'è da dire Anna che Colombo è stato l'unico allenatore finora incontrato dal Pescara. Il vertice è avvenuto proprio a Pescara lo scorso 4 giugno, sabato 4 giugno, le parti tra l'altro hanno anche trovato, come dicevamo inizialmente in apertura, hanno anche raggiunto in quella data un'intesa di massima sulla durata del contratto, un anno con opzioni a favore della società, ma anche sull'aspetto economico. La firma, salvo imprevisti, ci dovrebbe essere questo fine settimana, al massimo entro lunedì, la presentazione di Colombo e del Neo DS Daniele Delicari probabilmente nella giornata di giovedì prossimo 23 giugno. Diciamo subito che non ci sarebbe, ma il condizionale è quanto mai di rigore, un altro candidato. A te.